Amore, saluta per il mio video, come viaggiamo noi in macchina e Daniel è qui, vedete? Lui è qui e io sono qui. Se finalmente posso rimangiare le cose crude, allora questa è una moca, colpa. Questa è la pizza, è una pittatina, è buonissima, adesso vedete, pittatina di pasta e patate, solo a Napoli, ragazzi, e questa è una tartarra di carne cruda, cioè io sto mangiando da quando ho partorito solo crudo, sushi cudo, pesciutto crudo, carne cruda, ma questa la desideravo troppo. Guardate qua, ne mangiamo, per Daniel abbiamo messo l'app dei rumori bianchi e adesso c'è il phon, e adesso il phon è il phon bianco, ne lo adoro. Grazie, allora perdonate le mie occhiaie, il mio aspetto, io sono tornata a casa stanchissima, mi sono fatto una doccia, mi sono messa una maglietta così, ho caldissimo, non so voi, ditemi ragazze che avete partorito, ma penso sia un fattor ormonale, io da quando ho partorito ho sempre caldo e io ero una freddolosa, tipo la notte sudo, no, è una cosa tremenda ragazzi, comunque mi sono messa in maglietta, sto schiattando di caso, ho proprio le vampate, oddio, ditemi che è normale, però ho letto un po' su Google e pare che sia normale, comunque siamo qui, io e Pupi, eccola la Pupi, che mangia il mio calzino, e niente, adesso mi metto un po' a lavorare, perché ovviamente sapete che oltre al mio lavoro di influencer, quindi varie collaborazioni, sponsorizzazioni e aziende con cui collaboro, oltre ai video di YouTube ho anche uno shop online, quindi mi tocca fare un po' di pagamenti, un po' di gestione, eccetera, di tutti gli ordini, eccetera, e come al solito grazie per tutti gli ordini che fate, ovviamente su caritashop.com e grazie per seguire i consigli che vi do e mi ringraziate anche, è una cosa di cui mi ringraziate tantissimo, sono i prodotti Fitvia, e poiché io adesso mi sono fatta il pitch detox tea, ragazzi, che è buonissimo, e approfitto per sorseggiammelo, per sorseggiammelo, sì, adesso che mi metto al pc, e me ne sto facendo due al giorno, ragazzi, perché devo necessariamente buttare giù questi chili della gravidanza, però vi dico, io li sto perdendo in modo molto semplice, non facendo nulla di che, semplicemente cercando di mangiare sano, ad esempio, oggi ho mangiato fuori, però ho cercato di mangiare sano, e anche se mi concedo una frittura, un dolcino, bilancio la sera con qualcosa di sano, e mi bevo due battola al giorno di Fitvia, in particolare vi volevo consigliare la nuova box di Fitvia, con tutti i prodotti snellenti, la box perdita di peso, poiché in tantissime me l'avete vista usare, mi avete chiesto quando è che tornava di nuovo in promo, adesso c'è di nuovo la promo, perché è già scontata sul sito Fitvia, e in più col mio codice sconto, che è Carlita Box, risparmiato un ulteriore 35%, quindi ragazze, approfittate, ve la faccio vedere, eccola qua, qua dentro c'è tutto, ragazze, io l'ho presa già una volta l'anno scorso, perché volevo, insomma, mettermi un po' in forma per l'estate, e mi sono trovata benissimo, i risultati si vedono, adesso non è proprio piena, non ci fate caso, perché ovviamente le cose io le sto utilizzando, quindi qualcosina manca, comunque vi metto il link nel box informazione, qui dentro c'è tutto quello che vi occorre, cioè vedete la battle, appunto questa qua per farvi il tè, poi ci sono tutti i miei tè preferiti, il peach, che è quello che mi sono fatta io, che è buonissimo, il tè alla pesca è buonissimo, il mango, il watermelon, c'è la guida, con tutte le ricette light, che bellissima sta guida ragazze, ci sono un sacco, un sacco di ricette e di esercizi, è bella, poi ci sono i biscottini, questi sono ottimi in merenda e colazione, hanno poche calorie, c'è questo che è ottimo come sostitutivo di pasta, ad esempio se vorrete proprio perdere peso, questo è fantastico, questi che sono buonissimi ragazzi, adoro, sono dei biscotti proteici al cioccolato e poi ci sono tutte le caps, queste qua, però durante l'allattamento e la gravidanza non le potete prendere, infatti durante la gravidanza le ho sospese, però vi consiglio di fare come stanno facendo tante ragazze, di prendere adesso la box che è scontata e di usare tutto, tranne queste qua che poi ve le conservate, appunto se siete in allattamento, quando avete finito l'allattamento, tanto la scadenza è lunga, le utilizzate, se invece semplicemente volete, non siete né incinte, né l'allattamento, volete semplicemente rimettervi in forma, perché questo qua non è solo per le mamme o chi ha partorito, un po' per tutte, perché serve appunto per stare in forma e per seguire questo programma perdita di peso, vi aiuta anche a stare motivati a seguire l'alimentazione, ecco l'utilizzo di questi prodotti veramente vi dà una bella motivazione a stare in forma e prendervi cura di voi. Ragazzi lo sapete che io con Daniel veramente sto facendo altro che ginnastica, veramente sempre, sono super super impegnata poi la notte non dormo, quindi voi tenerlo in braccio, mi dovete credere, ci sto facendo nei muscoli veramente, mi si stancano le braccia, è una cosa tremenda, e quindi alimentazione sana, e con questi prodotti semplicemente ritornate in forma, io pensate che da quando ho partorito ho perso 10 chili praticamente, senza particolare sforzo, insomma, semplicemente tornando alla propria routine sana, ho questi prodotti che veramente vi aiutano, cincin! È buonissimo, ragazzi mi dovete credere, io poi adoro il tè alla pesca, e questi qua ovviamente sono tè che aiutano tantissimo a drenare, quindi ve li straconsiglio, e allora il mio codice è CARLITABOX, 35% su tutti i programmi per i dati peso, io ho questo qua, ve l'ho fatta vedere questa box, però sul sito trovate anche quella al cioccolato e alla fragola, se non ero comunque vi metto il link in box informazione, risparmiate perché già è scontato sul sito, poi col mio codice un ulteriore 35% risparmiate quasi 200 euro, veramente li pagate pochissimo prodotti, e in più se volete prendere qualcosa salto sul sito, avrete comunque il 30% di sconto con questo codice CARLITABOX su tutti i prodotti, quindi non so se volete prendere un pacchetto di biscottini in più, oppure un tè particolare che nella box non c'è, risparmiate comunque, quindi ragazzi approfittate, cin cin, mi finisco questa qua, che mi idrato, dreno un sacco, faccio anche bene al mio corpo mentre lavoro al pc, ovviamente tempo un paio d'ore perché Daniel ha mangiato da poco, questo è lo sterilizzatore che fa il rumore perché ne sterilizziamo sempre, poi vi voglio fare un video proprio più specifico ancora se mi interessa su tutte le cose proprio che mi sono servite perché ho comprato un sacco di roba, però cosa proprio serve e cosa stiamo utilizzando, quindi più nel dettaglio, però adesso mi devo mettere al lavoro, a dopo! Grazie a Daniel, è sulla astalemina, mentre io sono al lavoro, ragazzi sono al pc e lui è qui che mi fa compagnia. Grazie Ultrafon, che io tengo sempre qua perché quando lo cambio, per non farlo piangere, lo accendo, altri metodi perché in tante mi avete chiesto, allora questa qua me l'hanno regalata, poi farò il video della stanza, però voglio solo far vedere questa qua, si illumina e fa tante musichette, è molto molto rilassante, poi fa anche la luce questa qua bianca da notte, poi questo qua è anche il classico diciamo carillon, questi qua anche, comunque sono molto molto utili queste melodie e tantissimo comunque rumori bianchi, quindi il phon e anche il schuscher. Ho scaricato inoltre quest'app che mi avete consigliato che si chiama baby slip, comunque ce ne sono tantissime, che riproduce i suoni, ad esempio ci sono tutte le melodie e poi vedete c'è anche il suono del phon, questo è utile quando me lo porto dietro, ovviamente non è il phon appresso, però il phon è sempre quello che più, cioè lo stecchisce proprio il phon. Questo invece è un gufetto che è troppo troppo carino, un sacco di melodie, si possono cambiare melodie, fa anche tutte le stelle sotto al soffitto, poi si può anche lavare, è ottimo, questo ce l'ho sempre nella culletta e anche questo ce l'ho nella culletta, questo si chiama schuscher, vedete? Questo riproduce questo suono che fa calmare i bimbi, che questi sono tutti i suoni bianchi che ho scoperto, grazie sempre a voi che mi scrivete su Instagram, che sono molto simili a quelli che loro sentono in pancia, ecco perché li calmano. Sì ragazze ci sono tutti i prodotti Carlita Shop, che appunto uso per Daniele, questi qua bimbi, sia alchemilla, che sono ottimi, questo lo metto nel bagnetto e questa è tutta la linea della saponaria che è buonissima, biologica e naturale, la pasta cambio, il bagnetto, la crema, tutto, vedete? Potete anche acquistare tutti i prodotti e comporvi la scatola e ve li straconsiglio perché sono veramente veramente fenomenali, io uso solo questi qua per Daniele e non ha mai, vi dico mai, avuto il culetto rosso sulla scatola, anche la scatola costa tipo pochissimo, tipo se non mi sbaglio un euro, pochissimo dentro ci sono scritte anche tutte le frasi, è bellissimo e potete mettere anche la foto del vostro bimbo, così ma anche per regalarla o comprarla per voi e poi la tutti che sono favolosi ragazzi allora ci sono le salviette, sono tutti biologici e naturali, mi trovo benissimo poi c'è appunto il dedigente cambio pannolino che ho scelto nel bagno, lo uso sempre sempre per lavargli, ogni volta che lo cambio, lo lavo con un po' di questo che è super delicato, fa pochissima schiuma, però lascia la pelle super morbida e profumata non c'è neanche bisogno di mettere la crema, però ovviamente la metto e metto questa qua che è la pasta cambio è tipo una pomatina, l'ossido di zinco super super lenitina, vi dico non ha mai avuto il culetto rosso, questa invece è la cremina, molto leggera e asciutta sempre naturale bio che potete mettere su piedini, sulle manine anche sul viso, dappertutto tutta la linea, la calendula, la camomilla sono ottimi, formulati proprio per i bimbi neonati, quindi adoro però in tante, mi dite che le utilizzate anche per voi, infatti anche io, tipo questa qua la utilizzo dopo la depilazione ottima, contro i peli incarniti per l'erire la pelle, post puntura questa è una cremina leggerissima che potete usare anche dopo la doccia con il profumo di bimbi, di pulito buonissimo, anche queste salviette questa qua è la vitamina E pura che ho utilizzato per tutta la gravidanza sul pancione, sul seno contro le smagliature è favolosa e anche per i bimbi si può utilizzare perché appunto si hanno un'irritazione è veramente, veramente una manna dal cene infatti questa si chiama mamma bimbi e poi c'è questo che invece è per il bagnetto quindi questo qua lo metto nel bagnetto che qua, questo qua qua sotto vedete c'è il bagnetto gli facciamo il bagnetto ogni sera gli metto questo qua nell'acqua e sono pratici anche con questi dispenser sono comodissimi anche con questi dispenser e vedete c'è scritto coccole bio per prendersi cura dei bimbi di oggi e del loro mondo di domani e ci è spiegato tutti i prodotti comunque veramente sono ottimi questi prodotti li trovate su CarlitaShop.com ma in più vi lascio anche il mio codice sconto che è CarlitaYT che so che vi piacciono sempre i sconti comunque questi prodotti già costano pochissimo quindi sono super super onesti come prodotti che sono buonissimi potrebbero costare anche tre volte tanto col codice sconto risparmiate ancora di più avete il 15% di sconto non solo su questi prodotti ma su tutto il sito CarlitaShop quindi se volete approfittare per fare scorta vale attivo tutto il weekend quindi vale 48 ore e avete il 15% su tutto questi ve li consiglio comunque ci sono tantissimi prodotti nuovi anche su CarlitaShop venite a vedere e approfittate dello sconto questi li sistemo e dopo facciamo il bagnetto a Daniel e poi finalmente si va a dormire cioè a dormire a sperare di sonnacchiare qualche oretta fra un pianto e l'altro ragazzi qui c'è il mio ometto vedete che l'ho cambiato e ho messo questa tuttina che è bellissima il mio amorino e qui guardate chi c'è c'è Pupi che lo osserva attentamente comunque la mia vita da mamma continua così perché adesso sono tipo le 6 del pomeriggio e questo è l'orario in cui io cerco di terminare tutto di preparare lui di prepararmi io così da andare a fare una passeggiata oppure se devo fare la spesa una qualsiasi cosa perché io non voglio che si fa troppo tardi anche se comunque andando incontro all'inverno sarà sempre peggio e lui piace tantissimo andare in macchina si addormenta nell'ovetto gli piace passeggiare nel passeggino quindi adoro adesso andiamo tutti a fare un giretto e mamma deve comprare anche delle cosine vero? se non avete idea del sonno che ho ho un mal di testa un sonno tremendo perché si è accumulato un po' di sonno a parte da quando è nato Daniel ma proprio per tutta la gravidanza perché non dormo tipo da un anno comunque siamo tornati Daniel già ha mangiato ovviamente mangiato prima lui adesso ci approcchiamo noi approcchiamo noi a mangiare e ho preparato il sushi per il video mukbang quindi ho preparato tutti i piatti adesso Dario sta mettendo la tavola e quindi sono le 10 e noi dobbiamo cenare e questo sushi adesso ve lo faccio vedere è quello che avete visto nel video mukbang se già l'avete visto che ho caricato prima di questo se non l'avete visto ve lo metto qua nelle schede andate a vedere perché adesso appunto registreremo mangiando il sushi ancora non è finita la vostra giornata i video in cui rispondiamo alle vostre domande quindi guardatelo dopo faremo il bagnetto a Daniel e forse andremo a dormire per qualche oretta ma comunque ve lo faccio vedere ho preparato qua sopra vabbè se avete visto il video già avete visto la bontà di questo sushi c'è Pupi che osserva tutto vedete questo è il piatto di Dario questo è il mio che c'è anche questo qua che mi piace un sacco questo qua lo zenzero tartare sashimi i panini di sushi sushi eccole qua e poi c'è anche un altro piatto a testa che è il filetto di salmone con l'insalata le carotine e la salsa di soia è tutto pronto per cenare e registrare il video mukben dopo che noi ceniamo Daniel è sulla traietta qua in movimento sperando che non pianga ha appena mangiato quindi non piangerà e Pupi Pupi che c'è serba l'arma vincente un uomo distrutto un bimbo crollato il video Grazie a tutti.